salve e bentornati a incipit oggi vi parlerò di un bel classico di edward morgan forster camera con vista anche di questo libro è stato fatto un film un ottimo film devo dire la verità dunque il film e si svolge nella prima parte del romanzo in italia a firenze per la precisione dove lusi la nostra protagonista insieme a una cugina vanno in questa pensione a firenze e dove conoscono george che offre loro la camera con la vista sull'arno perché loro avevano una camera con una brutta vista insomma non erano molto soddisfatte questo dà in là la conoscenza tra lusi e george lusi si innamora perdutamente di george e lo steve viene ricambiata ma poi deve tornare in inghilterra e mettersi contro la famiglia per manifestare tutti i suoi sentimenti verso george e non vi dico altro ma leggiamo l'incipit la signora non aveva il diritto di farlo disse miss bartlett non aveva assolutamente il diritto di farlo ci aveva promesso delle camere a sud con vista a tigua invece eccoci qua con due camere a nord che danno sul cortile molto distanti l'una dall'altra o lusi è una cockney per di più disse lusi che era stata ulteriormente rattristata dall'inaspettato accento della signora come se fossimo a londra guardò le due file di inglesi seduti a tavola la fila di caraffe d'acqua e di vino rosso che correva tra gli inglesi i ritratti della defunta regina e del defunto poeta laureato pesantemente incorniciati appesi dietro gli inglesi e l'avviso della chiesa d'inghilterra che costituiva l'unico ornamento della parete charlotte non sembra anche a te di essere a londra riesco astento a credere che qua fuori ci siano cose di tutt'altro genere immagino che sia l'effetto della stanchezza questa carne è stata usata per fare il brodo senza dubbio disse miss bartlett posando la forchetta desideravo tanto vedere l'arno le camere che la signora ci aveva promesso nella lettera avrebbero dovuto dare sull'arno la signora non aveva il diritto di farci questo oh è una vergogna per me va bene un angolo qualunque continuò miss bartlett ma è davvero un peccato che tu non possa avere una camera con vista lucy si sentì egoista charlotte non viziarmi anche tu devi avere la vista sull'arno naturalmente è questo che volevo dire la prima camera che si libererà sulla facciata sarà tua disse miss bartlett le cui spese di viaggio venivano in parte pagate dalla madre di lucy una generosità cui faceva spesso delicate allusioni no no sarà tua insisto tua madre non mi perdonerebbe mai lucy non perdonerebbe mai me se te dessi ascolto le voci delle due donne si fecero animate e per dire la trista verità un po stizzite erano stanche con la scusa dell'altruismo stavano litigando alcuni dei loro vicini si scambiarono occhiate significative e uno di loro una persona maleducata come capita di incontrare all'estero si sporse attraverso il tavolo e non esitò a intromettersi nella conversazione disse io ho una camera con vista io ho una camera con vista miss bartlett trasalì di solito nelle pensioni le persone le studiavano per un paio di giorni prima di rivolgere loro la parola e spesso decidevano che erano a modo solo quando erano già ripartite miss bartlett capì che l'intruso era una persona maleducata ancora prima di guardarlo era un vecchio dalla corporatura pesante con la carnagione chiara la faccia rasata gli occhi grandi c'era qualcosa di infantile in quegli occhi ma non l'infantilismo della senilità miss bartlett non si affrettò a considerare di cosa esattamente si trattasse perché il suo sguardo si spostò sui vestiti dell'uomo li trovò poco attraenti quel uomo stava probabilmente cercando di far la loro conoscenza prima che si inserissero nella cerchia degli ospiti della pensione e così quando lui le rivolse alla parola assunse un'espressione sbalordita poi disse con vista o con vista che bella cosa alla vista questo è il mio figlio disse il vecchio si chiama george anche lui alla vista e quindi la camera con vista finalmente si palesa già dall'inizio del romanzo un romanzo affascinante interessante molto inglese molto britannico e io ve ne consiglio la lettura di edward morgan forster camera con vista a presto ciao sono stefano mondini e questo è il mio canale youtube puoi iscriverti premendo il pulsante con sopra la mia faccia così potrei sempre essere aggiornato su tutto quello che pubblicherò inoltre sarei ben felice se tu commentarsi e mi dessi suggerimenti a presto